buongiorno carissimi amiche carissimi clienti oggi ho appena chiuso il residenziale a tre giorni del metodo adamsky che conoscete già per offrire un risultato su i problemi della pancia gonfia del transito intestinale e diciamo che è un modello questo residenziale tre giorni che dà buoni risultati perché ne abbiamo già fatto sei andiamo a fare ancora due altri dunque è un format che funziona benissimo dunque nell'arco dei ultimi trent'anni ho messo appunto questa metodologia con la regolazione alimentare che conoscete con la manualità poi ho usato tanti sistemi di pubblico lecce tutti articoli della stampa che conoscete poi anche televisione che sta andando in onda in questo momento su tele color e tutti voi che avete fatto il corso con me che adesso potete trasformare e un diploma nazionale riconosciuto dell'asi un diploma del ministero del lavoro che altro che un certificato di formazione alla stessa valenza che il vostro diploma nazionale di estetista apro il riparto del franchising del metodo che format è pronto dopo trent'anni l'abbiamo provato dai suoi risultati e apro il brand adamsky metodo a voi dunque vi offro la possibilità di essere titolare diciamo del brand del franchising adamsky con un'esclusiva territoriale del metodo adamsky allora c'è già una dei nostri che ha preso la zona la zona di verona però verona essendo grande diciamo dell'esclusiva di zona di zona è per 500 mila abitanti o 20 chilometri non ci sono ancora altri spazi zona di verona che non siano contiguo al lago di garda diciamo perché primo franchising centro adamsky sarà desenzano del garda centro 250 metri quadrata della nostra amica collega barbara ciresola che crede in questo progetto da più di dieci anni perché lei essendo istruttrice ha già organizzato il corso adamsky eccetera eccetera altro che il vantaggio di avere l'esclusiva di zona avrete anche diciamo il diploma nazionale dato dal ministero del lavoro avete anche un tesserine tecnico interno ministero interno del lavoro ministero dell'interno e del lavoro e disposerete di una filiera esclusiva di marketing per l'acquisizione di cliente online e offline allora siamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo già avuto aspetta qui stiamo parlando un sistema non che ti da lead generation che tu devi trasformato con la difficoltà che conoscete no qui c'è anche un sistema dove il client arriva già nell'istituto con l'appuntamento non è che dovete trasforma il check up in forfe di 3.000 euro no è già predisposto cliente questo franchising che mi sono associata con un socio che si occupa di tutta la parte marketing commercialista le tasse e lui ti offre una consulenza nel dentro diciamo il franchising una consulenza legale fiscale per ridurre le tasse fino al 70 per cento secondo le leggi vigante offre anche e non è da poco la possibilità di noleggiare tutti i macchinari e attrezzature e sostituzione dell'acquisto che chiedono sempre noi ti forniamo anche questo servizio un altro servizio che ha usato questa prima filiata e rilascio di fiduzione agevolata e o finanziamenti per qualcuna necessità poi per ultimo però non è per meno la possibilità e la convenzione per finanziare a favore dei clienti per vendere percorsi da 3.000 euro circa di media con rimborsi mensili intorno a 100 euro mensili per i clienti e questo immediatamente non come al solito dobbiamo aspettare almeno un anno o due anni di esercizio professionale del negozio no non tutti questi vantaggi altre che l'efficacità provate e riprovate del metodo adamsky i risultati sui clienti offriamo tutto questi vantaggi in una band di affiliazione a voi centri estetici centri di naturopatia centri di rimesso in forma vi aspetto non tardate perché l'esclusiva di zona limita il numero di privilegiati che possono venire col mio con la mia nave su questo crociere verso verso i risultati positivi sia per i clienti che per voi un abbraccio a presto